Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi di un argomento particolare che riguarda del fatto che tante volte i manipolatori tornano, purtroppo, e lo fanno con una tecnica che viene chiamata Ubering, cioè cercano di indurvi a rispondere a quelli che sono i loro messaggi, i loro cucù, ovviamente. Come fanno? Vabbè, innanzitutto dovete capire che queste persone hanno un po' di disturbi del comportamento e sfruttano ovviamente gli altri. Questa tecnica chiamata Ubering è proprio una tecnica che prende un po' il nome dal marchio dell'aspirapolvere, no? La Uber. Ed è chiamata così perché è la tecnica con cui i manipolatori tendono a risucchiare, come se fossero degli aspirapolvere, le persone che hanno momentaneamente scartato. Quindi tendono a riagganciare le vittime, soprattutto dopo un periodo di punizione che mettono in silenzio punitivo. Quindi prima si fanno, cioè spariscono, vi mettono in silenzio punitivo, poi fanno questi famosi cucù, fanno questa tecnica di Ubering per riacchiapparvi. Quindi lo fanno in diversi modi, lo fanno con email, lo fanno con messaggi, sms o whatsapp, lo fanno con telefonate, bigliettini, altre manifestazioni. Quindi cercano di fare un po' di tutte quelle cose che sono a loro disposizione, anche con i social, per riuscire a riagganciare. Però lo fanno apposta per vedere se voi riaprite il famoso canale che è stato chiuso, nel no contact di più delle volte. E quindi vedere se riescono a fare breccia su di voi. Ovviamente è un mezzo che usano, una strategia che usano per vedere fino a che punto siete disponibili. Questi tipi di Ubering, questi messaggi subdoli, hanno veramente diverse forme, no? E i più comuni sono quelli in cui simulano un interesse verso la loro futura vittima, nuovamente, perché lo fanno dopo che vi hanno già sfruttato, utilizzato. Messaggi tipo come stai? Ah, stavo giusto pensando a te, so che le cose non hanno funzionato, ma tu significhi davvero tanto, voglio solo che tu sapessi che ti amo, che ti ho sempre amato. Oppure messaggi dove fanno assolutamente finta di niente, no? Compagnano di nuovo lì dal nulla e dicono ciao, come stai? E' tanto che non ti fai sentire, come se foste voi la causa per cui non vi sentite più. Oppure, ciao, ma c'è qualcosa che non va? Perché non ti fai più sentire? Proprio come adesso la faccio, come il di dietro. Oppure messaggi che inviano in occasioni particolari, se è quello il periodo, tipo auguri Natale, auguri di compreanno. Ma come mai non vieni a questo compreanno? Ma c'è il compreanno di tizio o di caio, vieni anche tu. Ah, mi piacerebbe andare in matrimonio di con te, vuoi venire con me a questo matrimonio? O così via, no? Oppure messaggi di testo che riguardano i vostri figli, soprattutto quando non sono loro i genitori, no? Cerco di farvi sentire in colpa, dicendo Eh, ho visto di sfuggito a tuo figlio, ma come sta? Oppure se il figlio che avete voi, che non è in comune con lui, o magari in comune con lui ha dei problemi di salute. Ah, sono preoccupato per la salute di tizio, è un po' che non lo sento, non so come sta, fammi sapere come va, io mi sono sempre preoccupato della sua salute, lo so che tu mi odi, ma ti prego, lascia che il tuo figlio o nostro figlio mi veda o lo possa vedere, eccetera, eccetera. Oppure messaggi più così stupidi, no? Tipo, ah, che fai questo weekend? Ah, sono diventato vegetariano, ti va di provare una cena vegetariana o cose del genere? Oppure usano false malattie familiari, tipo, ah, ho scoperto di avere un problema di salute, e posso parlarne con te, oppure sai, i miei genitori o mio fratello o mia sorella o si inventano qualunque cosa a dire, abbiamo scoperto che ha una malattia grave, posso chiamarti per parlarne un po' con te, sai, mi sento molto giù. Quindi usano tutti questi messaggi, ovviamente falsi, subdoli, per riagganciarvi, per cercare la breccia. Sanno un po' quali sono i vostri punti deboli, ovviamente, e cercano di fare breccia, di rompere o il suo silenzio punitivo o di rompere il vostro no contact. Perché magari voi state facendo il no contact, avete qualche finestra aperta, tipo qualche social, o vi contattano con un fake o con un falso nome, con un nuovo numero, o con un numero di un amico, eccetera, eccetera, pur di entrare. Ma perché fanno questo? Perché cerco di risucchiarvi nella rete? Perché fanno oovering? Perché usano questo aspirapolvere manipolatorio? Ovviamente non lo fanno perché vi amano. Toglietemi questo dalla testa. Il loro è un gesto interessato. Tenete presente che prima, mentre lui era in silenzio punitivo nei vostri confronti, oppure vi ha scartato e quindi voi l'avete bloccato in no contact, lui non sta lì da aspettare voi. Sicuramente in quel periodo lui ha, o lei ovviamente, dico lui in senso generico, perché ci sono sia uomini che donne che credono e gestiscono la manipolazione alla grande, questa persona ha utilizzato questo tempo per cercare altre vittime, per cercare altri rifornimenti, ovviamente. Poi o si è stufato di quel rifornimento lì, o è andata male, oppure ha bisogno di qualcosa che avete voi e che gli altri nuovi rifornimenti non hanno. Per esempio siamo nel periodo delle ferie e voi così avete, non so, la casa al mare, la casa in montagna che lui piace e vi aggancia perché così potrebbe avere le ferie assicurate. Quindi non vi aggancia perché si è pentito, non vi aggancia perché ha capito che non può stare senza di voi, non vi aggancia perché vi ama, vi aggancia perché ha bisogno di qualcosa, perché cerca di riprendere un po' di nutrimento anche da voi, perché gli fate comodo in quel momento, perché avete la casa al mare, la casa in montagna, perché ha bisogno di soldi e voi potete aiutarla economicamente, ha bisogno di sesso e voi potete soddisfarlo a livello sessuale e così via. Dipende qual è la cosa di cui ha bisogno e di cui voi potete ovviamente nutrire questa persona. Quindi ecco che questo è il motivo per cui un manipulatore fa ubering, ma poi comunque sappiate che il ciclo del manipulatore è sempre lo stesso, alla fine lo scarto ritorna comunque dopo una bella denigrazione, quindi dopo un bel gaslighting che di volta in volta, di ciclo in ciclo, diventa sempre più forte e sempre più pesante. E' ovvio che bisogna stare molto attenti quando si è consapevoli di essere stati vittime di una manipolazione, essere consapevoli che questi tentativi di ubering vengono fatti sovente dalle persone, vengono fatti più volte finché sanno che da voi qualcosa possono prendere o sperano di poter prendere qualcosa. Quando smetteranno? Smetteranno nel momento in cui capiranno che da voi non c'è più trip per gatti, come si dice. Quindi quando da voi non ci sarà più assolutamente nulla da prendere. Quindi quando voi avrete chiuso tutte le barriere nei suoi confronti, non per forza con no contra, ma quando sarete completamente al di fuori da quella che è la sua influenza manipolativa. E' ovvio che tante volte bisogna fare attenzione, tante volte da soli non ci si riesce, ecco perché è importante a volte chiedere un sostegno. Bene, sotto avrete tutti i miei riferimenti. Grazie per avermi seguito anche questa volta, ci vediamo al prossimo video. Ciao!